Il primo giorno di notizia Il primo giorno di notizia Il primo giorno di notizia Signorina, finito? No, non lo faccio in giro Prego, è molto urgente No, 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 non sono arrabbiata Non sono arrabbiata No, e... Continuerei di sapere subito se possibile Uh, che palle! Capito! No! Ma signori, lasci perdere che tanto l'omini Sono tutti uguali Sì, sì, sono nervosa Tesoro, lascialo È uno stronzo Vabbè dai, ciao, ciao Chi è che doveva telefonare? Io no, e te? No! 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 No!